Beh, Arezzo oggi ospita più di 200 chirurghi che vengono da tutta la Toscana e da tutta l'Umbria. La nostra è l'Associazione Nazionale dei Chirurghi che ogni anno si riunisce anche a livello regionale. Abbiamo deciso di farlo insieme all'Umbria perché siamo due regioni vicine e abbiamo unito le nostre forze e quindi è un forum importante per mettere a punto nuove cose. Tutto il giorno siamo qua riuniti a vedere se riusciamo poi a migliorare il nostro lavoro e la risposta che possiamo dare ai pazienti. È stato l'auditorium Guido d'Arezzo ad ospitare il congresso regionale dell'Associazione Italiana Chirurghi e Ospedalieri che ha visto riunite le regioni Toscana ed Umbria. Tra gli organizzatori Marco De Prizio, primario della Chirurgia Generale dell'Ospedale San Donato di Arezzo. Il convegno riguarda le malattie del colon e del retto ma soprattutto con un taglio verso l'innovazione tecnologica e quindi l'utilizzo di materiali, tecnologie e macchinari che rendano più favorevole quello che è il nostro lavoro e anche i risultati. L'altro aspetto importante è quello della sicurezza del paziente e degli operatori perché ormai è un tema alla ribalta che i nostri interventi sono sotto la lente di ingrandimento quindi non possiamo più permetterci di eseguire cose che non abbiano degli standard di sicurezza ormai riconosciuti a livello internazionale. Punto di forza della sanità retina è il fatto che possa contare ormai da anni sulla chirurgia robotica. Diciamo siamo fortunati perché dal punto di vista tecnologico abbiamo da anni ormai il robot da Vinci e abbiamo la possibilità grazie alla nostra azienda sud-est che ci ha sempre supportato in questo e al Calcit che come sapete è un'associazione che raccoglie fondi da devolvere all'ospedale abbiamo veramente delle tecnologie interessanti e speriamo che questo sia motivo per cui sempre meno i cittadini di Arezzo debbano rivolgersi a strutture lontane per risolvere i loro problemi di salute. Sul fronte della prevenzione invece c'è molto da recuperare. Stanno parlando in aula proprio in questo momento di prevenzione del tumore del colon e del retto e questo è un tema importante perché arrivare presto significa poter curare meglio le malattie e sicuramente la pandemia ha rallentato questo procedimento che ora ci auguriamo che riprenda con forza e vigore per dare modo di recuperare perché effettivamente due anni e mezzo di riduzione di questi procedimenti noi ne stiamo ora vedendo le conseguenze, casi sempre più avanzati, a volte anche incurabili cosa che con un po' di prevenzione si poteva intervenire meglio. Negli ultimi sei mesi abbiamo recuperato il 40% degli interventi che erano andati nelle liste di attesa in questo stiamo decentrando anche certe attività verso gli ospedali periferici della nostra provincia e io credo che entro fine anno dovremmo arrivare non al pareggio ma comunque a rimettere quelle che erano i nostri tempi di attesa standard in era pre-covid. Grazie. Grazie.